sì sì che dici sì franca sì e c'ho gli occhiali sono un vecchio l'occhiale mi ci vogliono gli occhiali ma hanno anche detto di tenerli perché sono bifocali insomma avevo finito il braccio ci vedo più a proposito di finire i bracci vado da fausto che vedo che sta levando l'erba fausto tutto a posto questi sono i cipollotti come direbbero gli inglesi the spring onion quelle che si mangia anche la parte verde quelle che si ungono un giorno si scusa si ungono mettete a marinare nell'aceto mi sembra ci siamo ora è sempre freddino queste poi partiranno e qua quante cipolle quanti cipolle c'è fausto migliaio un migliaio di cipolle manunta l'orto di manunta e ci sono sempre gli olivi che ci fanno compagnia fausto è contento perché quasi finito di potà e ora poi c'è da potare quell'altro oliveto perché abbiamo preso anche quello ora io sto aspettando marco i pacini dell'orto fruttifero perché c'è da fare il programma per piantare le colture primaverili estive anche se è sempre cicco il freddo tradotto è molto freddo è arrivato un inverno un po postumo